Il focolaio di Mondragone è spento, come commenta? Guardi, Napoli dal 4 di maggio ad oggi praticamente è quasi contagio zero. A Giunno è zero, pochissimi ne abbiamo avuti, abbiamo meno decessi dell'anno scorso. Mondragone è un focolaio isolato, evidentemente, non riguarda Napoli. Io sono molto orgoglioso del comportamento dei miei concittadini. Ecco perché adesso voglio che Napoli riprenda a vivere. Perché sono molto più preoccupato dell'epidemia sociale ed economica che di quella sanitaria in questo momento.